Si è rinnovata anche a marzo la maratona di lettura promossa dai giovani economisti e imprenditori di Economio Francesco per la pace. Una catena di voci, volontari, ragazzi e giovani adulti che il 29 marzo hanno letto parole e storie di pace scritte da autori e autrici di tutto il mondo, brani di narrativa, poesia, interviste e molto altro. Terra Santa, Cile, Iraq, Peru, Italia, Brasile, Norvegia e molti altri, i paesi coinvolti venerdì santo in 12 ore non stop di letture, riflessioni, testimonianze, preghiera e musica.